Fra i fedeli che sono accorsi qui a San Giovanni Rotondo per la cerimonia della traslazione delle reliquie di San Pio c'è anche Giuseppe Saldutti che è il vicepresidente dell'associazione Pro Padre Pio. Voi vi siete sempre opposti e non da poco, da parecchi anni a questa traslazione. Perché? Sicuramente perché la traslazione è stata fatta in un contesto che non è canonica. Cioè la resumazione non era necessaria, questo l'ha detto Papa Giovanni II, che non ha ritenuto necessario questo atto nella causa di santificazione. Pare Pio viene fatto santo e poi dopo alcuni anni, stranamente, viene fatta la ricognizione canonica, che era il primo passo per la traslazione. Pare Pio ha chiesto, invito, di essere seppellito sotto terra con queste testuali parole. I frati vengono seppelliti al cimitero e io voglio essere messo sotto terra. Questo è il desiderio di Pare Pio che oggi viene, diciamo così, calpestato da chi persevera in questo obiettivo della traslazione, una tomba d'oro che è tutto il contrario di quello che Pare Pio voleva. Secondo voi è stata violata un po' quella che era la sua volontà? Sicuramente sì. Cioè il desiderio di Pare Pio era quello di essere messo sotto terra e non una tomba d'oro. In realtà i chili di oro che ci sono lì nella nuova cripta inferiore sono in tutto tre, poi ci sono varie pietre, però voglio dire non è poi così sfarzosa come dite. Sono 120 chili di oro, lo confermo, lo ribadisco e lo posso documentare. Il vicario ha detto che sono solo tre chili. Sì, lui parla di una parte di oro utilizzata per la copertura. Tre chili di oro sono pochissimi per 500 metri quadri, perciò ognuno può fare le proprie deduzioni. In sostanza voi vorreste che Pare Pio venisse seppellito dove? Ma sicuramente sarebbe il nostro desiderio di tutti quei, diciamo così, devoti che amano Pare Pio rivedere insomma la chiesa, la vecchia cripta di Santa Maria della Grazia che è stata benedetta proprio personalmente da Pare Pio, vedere ripristinate gli ostedi dei luoghi. Però sappiamo benissimo che ormai è stato infranto e sarà difficile riportare quella spiritualità che c'era non più tardi di tre anni fa. Poi vi opporrete ancora? Sicuramente giorno 22 prossimo abbiamo un'utenza in tribunale dove noi chiederemo il ripristino dello stato della tomba in Santa Maria delle Grazie. Perciò voglio dire anche con una raccolta di firme qui sul territorio cercheremo se nel caso si raggiungerà l'obiettivo di questa traslazione. Oggi siamo qui con tutto il rispetto per una funzione religiosa, non siamo ultras, non siamo atei, siamo persone che amiamo Pare Pio e che amiamo la chiesa. Però siamo contro un'iniziativa, un'iniziativa isolata dei frati Cappuccini che hanno deciso questo. Bene, grazie e saldutti. Ovviamente la polemica, come avete potuto sentire, è destinata a continuare.